il semafore rosso scatta attacco di pedrosa che scalza brady smith dalla quarta posizione ora è lui alle spalle di valentino rossi davanti a tutti il mondo è arrivato ma quello che inizia rilasso l'impatto di maiocca guida la corsa vediamo adesso della guercia davanti a un pubblico entusiasta con Daniel pedrosa che allestende l'attacco a valentino rossi il poccello in baro rassunta un chilo grazie